ciao a tutti ragazzi oggi siamo di nuovo qua con il mio catorcio per rimuovere la scheda madre c'è la scheda grafica che ho fatto un fail forse questa la taglio vabbè non c'è niente allora questo qua è per avvitare per svitarmi allora sto coprendo la luce allora prima cosa è facilissimo rimuovere una scheda grafica così allora qua c'è una vite ve la faccio vedere c'è una vita gioca nascondino st lì c'è una vita ok questa è la mia mano e questo è la cosa che sto per quella era la vita che stavo per cercare di svitare ok ho svitato la vita e ce l'ho in mano oh yes ok like a boss poi prendo e tiro indietro e ho in mano la scheda grafica questa è una volta quando fu comprato il computer era una scheda grafica con i cazzi e con i controcazzi e adesso non è niente diciamo che adesso la scheda ma la scheda grafica in commercio più schifosa non è schifosa come questa c'è la scheda grafica in commercio più schifosa c'è la mio portatile che non roba tipo 4000 md msi 4r 4000 qualcosa c'è una schifidità mentre quella che piglio io è la migliore è la migliore in germania quindi diciamo che la migliore in europa è molto molto figa ok adesso vi faccio vedere ho fatto una scatola che sarebbe la scatola della scheda madre la scatola dei componenti e tutti i componenti che ho tolto da lì li metto in quella scatola quindi un attimo che qua c'è un'impresa tra me e questa scheda grafica niente non ce l'ho fatto guarda questi qua sono tutti i componenti che abbiamo tolto finora sono tutti questi vero vi ricordate a parte questo qua che non c'entra niente cioè c'entra ma non così tanto sarebbe una cosa che è questa qua ma non c'entra niente su questo è una parte della scheda grafica insieme a questo vedete l'adattatore che da qui passa vg a che dovrebbe essere messo qua bene quattro minuti si perfetto va benissimo no tu non vai lì va benissimo ciao arrivederci ciao 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 da italia apple.com